Amici buon pomeriggio a tutti, io vi parlo che è una domenica pomeriggio quindi è domenica anche per me vi rubo solo pochi minuti per dare una risposta ad un commento che è arrivato sul mio canale il quale ha ricevuto anche un po' di apprezzamenti e insomma chiacchiericcio intorno per cui volevo semplicemente spiegare una cosa e ho cancellato quel commento perché ritengo di essere sul mio canale e vi spiego però voglio dare una risposta siccome c'erano anche alcuni mi piace a quel tipo di commento voglio farvi capire perché l'ho cancellato però ho capito in questa occasione che effettivamente come molti altri fanno dalla parte dello youtuber in questo momento dalla parte di chi fa video smetterò d'ora in poi di farvi questo tipo di video che sono molto molto poco utili e rispondere quindi ad ogni commento per quest'ultima volta lo voglio fare proprio perché appunto molti sembravano approvare quel tipo di commento io invece l'ho cancellato e voglio spiegarvi perché quindi uno delle persone che hanno visto il mio video ha fatto questo tipo di commento scrivendo tutto in maiuscolo ma la vuoi finire ma poi cercare di capire che scusatemi si parlava del video in cui io commentavo l'operato di politoro e la risposta di questo su questo commento era a lettere maiuscole ma la vuoi finire di perdere tempo con questo qui ma lo vuoi capire che il ccap è parte di un organo internazionale pagato bla 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 ma vuoi capire che i membri del ccap sono massoni bla 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 ma insomma quando smettila di fare questo tipo di video altrimenti sei stucchevole anche tu in realtà la mia risposta è la seguente non c'è rabbia in quello che dico è però è semplicemente vi spiego perché ho cancellato i vostri mi piace vi spiego perché ho cancellato il commento lo spiego insieme al cagnolino e vi spiego perché d'ora in poi appunto non vi tedierò più facendo questo tipo di video ma visto che c'era un po di fermento ve lo voglio raccontare o voglio darvi la mia versione quindi rispondendo a questo commento che però non mi è piaciuto che arriva sul mio canale e comincia a scrivere in quel modo che su internet vuol dire urlare per cui mi viene a criticare in quella maniera mi dice di non fare più video di quel tipo che non gli piacciono e mi dice che sennò divento stucchevole la mia risposta è se divento stucchevole non perdere tempo a guardarmi ma non venire a strillare a casa mia quello che devo fare io e appunto non venire a dirmi sul mio canale tu quello che devo dire io semplicemente se non ti piace il mio canale non lo guardare e però per l'ultima volta appunto voglio rispondere a questo commento e spiegare perché faccio video di questo tipo a volte non è una battaglia personale mai con nessuno infatti tant'è vero che poi guardate il caso il video che avevo fatto ultimamente per continuare a controbattere politoro che poi ho visto che ne hanno fatto anche altri youtuber il mio l'ho cancellato per errore quindi non mi metto neanche a rifarlo perché appunto ho visto poi che ci sono altri youtuber che si sono prontamente posti a far capire le stupidaggini che dice politoro ma perché io e altri youtuber che abbiamo casualmente usato proprio la stessa espressione ho sentito un altro youtuber dire mi sanguinano mi esce il sangue dalle orecchie io ho detto proprio mi sanguinano le orecchie a sentire quello che dice politoro quindi dovete capire che dalla parte di chi in buona fede cerca di raccontare qualche notizia e cercare di far avere informazioni alle persone che hanno meno tempo per la ricerca o che si interessano da poco a questi argomenti cerchiamo di far capire le cose poi sentiamo un politoro che è completamente fuori dal mondo sembra uscito da un libro di fiabbe non sapere nulla di quello che succede al mondo e racconta una versione dei fatti completamente inventata ecco perché lo si fa non per fare la guerra a polidoro o a altri della stessa risma che fanno quel tipo di lavoro perché non è un attacco alla persona è utile fare questo tipo di video semplicemente perché se io faccio un video dove dico per esempio massimo polidoro ha sbagliato su questo e alcuni dei fan alcuni di quelli che seguono massimo politoro capitano sul mio video e magari lo ascoltano come io vorrei che facesse massimo politoro con una mente aperta e ne trovano riflessioni utili e magari aprono la mente a una possibilità diversa e quindi rivedono magari le loro preconcette conoscenze ho fatto una cosa utile quindi ho secondo il mio la mia visione io in buona fede credo di cercare di raccontarvi quello che è utile quello che è vero quindi se faccio questo e dico guardate state attenti che massimo politoro in questa cosa è in errore secondo me sono utile a riportare almeno qualcuno nella giusta direzione rispetto a quella che era stata presa ecco il motivo del fare certi video tutto qua se quello che mi ha scritto quel commento non l'ha capito non c'è bisogno di venire a fare a strillare così a fare critiche che le critiche sono ben accette quando sono utili ma una critica così che dice sennò diventi stucchevole se li fai anche tu se divento stucchevole perché neanche riesci a capire il perché uno li fa non c'è problema non si può stare simpatici a tutti semplicemente vai avanti e non guardarmi sopravviveremo entrambi anche così tutto qua quindi per questa volta ho risposto perché molti mettevano mi piace al suo dire smettila di fare questi video quindi personalmente mi sento di spiegare perché io non solo io facciamo questo video risposta quando sentiamo dire certe cose che ci sembrano assurde tutto qua per cercare di aiutare di continuare la mission di cercare di dare una mano questo è quanto ecco per chi non l'avesse capito l'ho specificato però d'ora in poi il canale ancora è il mio mi prendo il diritto di senza fare polemiche farvi questo tipo di video inutili cancellare commenti che ritengono opportuni e andare avanti punto chi non è d'accordo ragazzi il mondo è grande rimaniamo tutti quanti comunque sereni un abbraccio a presto grazie a tutti